Salve, siamo qui con Cesetti, Presidente della Provincia. Cosa ne pensa Presidente della situazione nella provincia di Fermo della legalità? Io credo che la questione della legalità, la provincia di Fermo, sia sotto controllo. Nel senso che grazie all'azione positiva svolta dalle forze dell'ordine, dalla magistratura, diciamo lo Stato c'è. Però il nostro territorio negli ultimi anni è stato interessato da episodi di violenza che dimostrano il tentativo di associazioni criminali di penetrare nel tessuto del nostro territorio. Sono fiducioso perché appunto il tutto è sotto controllo grazie all'intervento delle forze dell'ordine e della magistratura. Perfetto, grazie mille. Siamo qui con il Professor Giuseppe Bontonno, Assessore alla Cultura della provincia di Fermo. Cosa fa la provincia per diffondere la cultura sulla legalità qui nelle zone limitrofe? Ma intanto la cosa più rilevante credo che abbiamo fatto è stata quella di ampliare strutturale il tavolo della legalità. Sono circa 30 tra scuole, associazioni e comuni, oltre naturalmente alla provincia, che fanno iniziative di educazione alla legalità democratica. Noi non dobbiamo mai dimenticare che la legalità non è un principio autoritario, la legalità è la tutela dei diritti, perché in assenza di legalità prevalgono naturalmente i privilegi dei forti, dei più forti. Quindi il tema della legalità è un tema che deve stare a cuore, e soprattutto, e per questo bisogna formare i giovani ragazzi, a cuore dei soggetti, dei soggetti sociali, dei gruppi sociali più deboli e più fragili. Ce n'era necessità, perché questo è un territorio in cui l'ha... Tanto perché, tutto sommato, ancora un territorio relativamente ricco. Però è un territorio ricco, ma in crisi. E dunque è un territorio, credo, pericolosamente adatto, come i fatti dimostrano, alla penetrazione di poteri mafiosi e criminali. Lo dimostra il consumo di stupefacenti. Gli stupefacenti non vengono dal cielo, non cadono dal cielo. Sono il prodotto di un'attività di racket, di organizzazioni criminali e mafiose. La diffusione e la gestione della prostituzione su scala amplissima in alcune zone del territorio. Vicende, richieste di pizzo, minacce, incendi a chalet, un cinema che ha bruciato un incendio doloso nel centro storico di Fermo. Cioè c'è una situazione che è una situazione chiaramente allarmante. Qui e nelle Marche. Chiaramente il tavolo della legalità non ha funzioni né investigative, ha funzioni di diffusione culturale, di formazione scolastica. Si tratta di diffondere una cultura del diritto e del rispetto degli altri. Delle diversità, della pluralità, che poi è l'essenza della democrazia. Ci dica, professore, a proposito di questo tavolo della legalità, hai magari in servo qualcosa per i prossimi anni, per l'estate? Ci dica. Sì, ma intanto stiamo lavorando alla settimana della Costituzione prossima, la prossima edizione che dovrebbe essere a fine ottobre, quindi nell'autunno prossimo. E quest'anno dovrebbe essere dedicato proprio a avere come tema la questione dei diritti in tempo di crisi. Perché il pericolo è che la crisi produca un allentamento dei diritti. In nome del lavoro o delle esigenze economiche si devasta l'ambiente oppure si riconoscono meno diritti a chi lavora, si estendono le forme di precariato, di lavoro nero. Diritti in tempo di crisi significa tante cose. Significa anche diritto alla legalità in tempo di crisi. Anzi, dobbiamo rovesciare la questione, lo diremo in questa settimana che faremo nelle scuole, come tutti gli anni, principalmente nelle scuole. L'illegalità è uno dei principali elementi di debolezza e di fragilità del sistema economico italiano. E quindi oggi anche europeo. Le mafie non producono ricchezza. Drenano, rubano ricchezza sociale a vantaggio dei mafiosi, delle ricche famiglie dei mafiosi e dei gruppi finanziari conniventi ad essi. Poi delle cose anche più semplici credo che debbano essere fatte. Per esempio, noi siamo stati a vedere questo terreno a Cubra Montana. Ecco, io credo che questa esperienza dei campi di lavoro volontari estivi con l'Associazione Libera sia un'esperienza straordinaria per i ragazzi. Perché il lavoro non è un lavoro massacrante, chiaramente è più un'esperienza di vita e formativa. Ed è un'esperienza importante perché i ragazzi della tua generazione vedono realtà sociali, situazioni sociali, anche vedono che si può essere giovani in un altro modo. Cioè impegnandosi, facendo delle battaglie civili, la propria ragione di vita. E vedono anche quanto sia duro farlo in zone in cui il controllo del territorio è totalmente in mano alle mafie. Ci vuole coraggio, ci vuole energia, ci vuole la capacità di spendersi. Non c'è bisogno di eroi. Gli eroi sono solitari. C'è bisogno di un lavoro collettivo che dobbiamo fare in tanti e insieme. Quindi il messaggio che vuole trasmettere Mario a tutti i giovani, sia delle scuole che fuori, è lottate per il vostro futuro. Non lasciatevelo portare via da queste mafie. Esattamente. Questo paese, quando serve, deve sapersi ribellare. Collettivamente, democraticamente, pacificamente, ma deve sapersi ribellare. E soprattutto la spinta non può che venire da voi, dai ragazzi. Ecco perché l'educazione alla legalità non è un'educazione all'obbedienza. È un'educazione al rispetto delle regole. Non all'obbedienza cieca. Semmai, al contrario, è un'educazione a battersi e a ribellarsi quando le regole vengono violate. Le regole di giustizia, di libertà, di democrazia che la Costituzione sancisce. Essere sostenitori della legalità non significa essere passivi. Esattamente il contrario. Quindi, ragazzi, diamoci sotto e facciamoci sentire. Grazie, professore. Grazie. 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 Grazie.